Non è prevista la consegna delle cinture per il campionato d'Italia, gliele consegniamo oggi. Signore e signori, tre volte campioni d'Italia tra 1997 e 1998. Lui campione internazionale già sfidante al campionato d'Europa e già sfidante al campionato del mondo, da un mio, Sandro Cazamonica. Correa con un grande applauso del Sandro Cazamonica. E un grande applauso va a chi questa scintura la finca tra il 1997 e il 1998. E' stato anche l'unicampione d'Europa per la categoria di Superlegere e Werther. E due volte sfidante al campionato mondiale, Gianluca Franco. E' stato più di un grande applauso del Singulari. Anche lui, con leiese con le cose ludici. A facenza, a si. Ciao Luca Franco. Ed eccole qua, le citture di campione d'Italia Il maestro Franco Ferrici e Sandro Casamonica Vogliono che tu consigli per Gianluca Franco Ancora un grande applauso per Sandro Casamonica Per Gianluca Franco e un grande applauso a tutti i fucili Che rappresentano il fucilato italiano del mondo E che ringraziamo ovviamente Grazie a maestro Franco Ferrici Grazie a Fabio Petrucci Questa sera grande emozione Alla bala borsa Aurelio Sattoro Questa sera cia luce come fa gialla Sì, va benissimo Sì, va benissimo Sì, va benissimo Sì, sì. 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 Sì. Sì, sì. Sì. Sì, sì. Sì, sì. Sì, sì. Sì. Sì, sì. 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 Grazie a tutti. 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 Grazie. All'anno... a tutti. a tutti. a tutti.